Mentre lo leggo penso a alcune frasi bellissime che sono state dette in questi giorni, penso a quelli che hanno detto c'è il rischio di una deriva autoritaria e chi l'ha detto casa pound, c'è il rischio dell'uomo solo al comando, chi l'ha detto Berlusconi, no è bellissimo, è una riforma frettolosa, chi l'ha detto De Vita dopo 35 anni in cui stanno lì, questo è il quesito su cui si dovrà votare.